Salve a tutti ragazzi, io sono Joey Shogun e benvenuti a questo video qui sul mio canale, sempre su Kino Marzo di Non Cross Oggi ragazzi è il 2 febbraio 2018, ci siamo arrivati con una velocità spaventosa ragazzi, sembrava ieri che era il nuovo anno E c'è stata una affidata ai contenuti di gioco in questa settimana ragazzi che dobbiamo andare a vedere un secondo Questo video durerà un po' più del solito perché ci sono veramente delle novità importanti e sostanziose Andiamo subito in Other Notices e partiamo subito dalla manutenzione che c'è stata il primo febbraio Da noi ragazzi c'è stata dalle 2 alle 9 di notte ovviamente e quindi bene o male non ci è interessati più di molto E' stato aggiornato il gioco alla versione 2.5.0 come nella versione JP e dopo vediamo cosa appunto comporta questo Poi ci sono stati anche more prod mode quest del primo febbraio, sono stato aggiunto appunto alle 9 del primo febbraio E vi danno delle keyblade appunto speciali se completerete, se arriverete a un certo numero di quest Io adesso me ne ricordo qualcuno tipo Missing Age, Diamond Dust, il Fenrir, lo Sleeping Lion Sono comunque keyblade veramente eccezionali E oltre a questi potete prendere Dark Matter, Electrum, Ore che servono per appunto potenziare questi keyblade che vi ho elencato velocemente E Magic Mirror, veramente tanti ragazzi il che è veramente ottima come cosa Quindi è stata aggiornata fino al Platinum Quest 500 Perfetto, andiamo subito a parlare di Peter Pan Avatar Boards ragazzi, dura fino al 13 febbraio Costa 2500 jewels e cosa contiene questo Avatar Boards? Ovviamente ragazzi l'aspetto di Peter Pan con skill perk più 6 gli orecchini Stessa cosa nel completo maschile e anche in quello femminile Ma cosa contiene inoltre? Contiene 2 chip, 2 Dale, 2 S10, 5 Magic Mirror e 1 Magic Proom Inoltre come skill abbiamo Second Chance 3, Attack P5 e Luxe Plus, non è Max purtroppo E Attack P5 Max e Gage 1 Ottimo ragazzi, veramente ottimo Perché ultimamente sono uscite molte medaglie che costavano 4, addirittura 7 Se per esempio l'Escore Challenge di Goofy E contiene una Power Gem Io ve lo consiglio ragazzi, se non avete Second Chance 3 è veramente ottimo Scusatemi, prendetelo assolutamente Poi l'Avatar è anche carino insomma, mi piace l'idea Back, regarding Beginners Deals and Daily Deal Praticamente ragazzi ci sono quei banner per i beginner che veramente ormai non hanno più molto senso Come possiamo vederle qui, All Target Attack Medals, Single Target Buffer Utility Medals And Daily Deal Verranno sostituite verso la metà di febbraio 2018 Quindi vedremo cosa in servo per noi se sotto questo punto di vista sta cercando di premiare sempre di più i beginners Vediamo se questi nuovi banner saranno veramente interessanti oppure saranno un fiasco totale Come appunto questi che ho elencato precedentemente Poi ragazzi, Banstar, Pigstar, Spirit Part, Blind Box Deals Questi ragazzi sono due banner per l'anata delle Spirit Part Sono Blind Box, ovvero possiamo ottenere Cioè non sappiamo cosa andiamo a ottenere Ce l'elenca sotto durerà fino al 6 di febbraio ragazzi Costerà 500 jewels ogni banner appunto Ogni volta che andremo a pullare a questo banner diciamo E qui possiamo vedere l'elenco delle Spirit Parts per l'avatar Qui Pigstar, Spirit Parts, tutte le elencati E qui sopra invece Banstar, Spirit Parts Niente di più ragazzi, sono veramente carini Questi non li preferisco Però quelli sopra con Banstar è veramente carini Poi dopo potete personalizzarvi come più vi piace Andiamo back ragazzi February Colosseum Update Ovviamente ragazzi è finito il mese Testato l'update del Colosseum Durerà fino al 1 marzo Alle ore 9 del 1 marzo E cosa contiene le boards? In questo mese andremo ad ottenere Heart Shaped Balloon Skill Perk più 3 Outer Parts Come possiamo vedere è molto carino per San Valentino Penso E inoltre Attack P5 Max e Luxe Plus È ottimo ragazzi, è veramente ottimo Quindi è assurdo ragazzi C'è anche nella boards Però non è Luxe Plus Quindi questo ragazzi è veramente ottimo Andate ad ottenerla se avete la possibilità di farlo Poi andiamo back Versione 2.5.0 Update ovviamente ragazzi Prima di tutto possiamo scegliere La risoluzione adesso High resolution Or low resolution Quindi alta o bassa risoluzione Nelle opzioni Per completare Cioè Mentre completiamo Cioè dopo che abbiamo completato il tutorial E Before the loading game Poi possiamo Restore resources Button On the title screen Nelle stesse opzioni E poi hanno aggiunto I draw odds E poi andremo a vedere Cosa è nello specifico Hanno aggiunto finalmente La possibilità di utilizzare Il nuovo attack Durante l'auto battle Hanno incrementato i Luxe Ottenibili dai red bosses E poi ci sono stati Dei bug fix Minori Quindi questo ragazzi È l'update Che c'è stato Occupato veramente Tanto tempo Penso 7-8 ore Andiamo back ragazzi E la novità di quest'oggi È Kingdom Hearts 2 Namine Within 5 draws Quindi in 5 pull ragazzi Possiamo ottenere Questa medaglia Che è una copiativa Che adesso andremo a vedere Nel dettaglio Prima di tutto La ottenremo La otterremo Con 3 special dot Attivati Dopo i 5 pull Ovviamente Ci ricorda che Questa copiativa ragazzi Non sarà messa Nel sistema di pull Quindi È considerata Come una medaglia EX Per ora Quindi Potremmo ottenere Solo da questo banner O in futuro Quando ce lo diranno loro È una tier 7 Però È una tier 7 particolare Ragazzi Il banner Lo andremo a vedere Dopo un attimo Vi spiego Perché è speciale Perché la versione boosted Di questa medaglia Arriverà con 2000 Strength E defense Di solito È più 1000 Di entrambi Invece Su questa medaglia E più 2000 Ovviamente Se otterrete La versione boosted Non penso Che in 5 pull Sia garantita La versione boosted Almeno qui Non c'è scritto Quindi ragazzi È veramente eccezionale Fa Veramente Tanti danni Se la trovate boosted Penso Tanti danni Sono ovviamente La medaglia Che andrete A copiare Inoltre ragazzi La versione boosted Di questa medaglia Avrà 4 trade slots Quindi se avete Jewels A volontà Io vi consiglio Di farci Un pensierino Dura fino Al 9 di febbraio Ragazzi Questo Deal Contiene È garantita Una tier 4 O superiore Con pre-strengthed Special dots 1, 2 O 3 E le restanti 9 medaglie Arriveranno Con rarità 5 O superiore Allora ragazzi Questo banner In sé Per sé Non è Dei migliori Perché comunque C'è ancora Una tier 4 Garantita Perché comunque Sì In 5 In 5 Pull È garantita Questa medaglia Però sinceramente Ci sono anche Altre medaglie Tipo Naminé Precedente È Sì Tier 5 Un po' datata Però bene o male Fa lo stesso lavoro Perché è Magic E a Bright Ascito Vanitas Magic È una reverse Certo Però comunque Sia È comunque Un'ottima Copiativa Tier 7 Che ricordo Era Molto Garantita Rispetto a Questo Certo Perché ha avuto Meno Meno fortuna Magari Non l'ho trovata E quindi Questa è l'occasione Per prendere Una tier 7 Copiativa Magic A Bright A questo giro Non so ragazzi Io probabilmente Questo banner Lo schippo Perché ho tutte Le copiative Cioè In senso Ho Estudiant Formsora Che è una Tier 6 Ho Naminé Tier 5 Ho Come così Vanitas Giltato Che è appunto Una tier 7 Mi manca solo E su Dixion Purtroppo Non l'ho trovata Manco sul banner Precedente Mi accontento Per adesso Anche perché I jewels Sono quello che sono E so Che medaglie Possono arrivare Ne attendo Una in particolare Adesso andiamo a vedere Nello specifico La medaglia Appunto Magic A Bright Tier 7 Come ho già detto Target Get singolo Come ogni copia Attiva Costa 0 E praticamente Ragazzi Copia la medaglia Successiva Quindi se noi mettiamo Sullo slot 1 Questa medaglia Nello slot 2 Abbiamo un Aira SD Andrà a A prendere in prestito Il suo Special Attack Con tutto ciò Quei ne conseghi E quindi Buff Debuff Danno Eccetera Non va a copiare Il Il Guilting Della medaglia Quindi se avete Iira 200% Guiltato E lei No Non andrà Ad applicare Quel danno Aggiuntivo Deve essere Anche lei Guiltata A sua volta Per fare Quel danno Quindi ragazzi Penso che Per questo video Sia tutto Però Vi ho promesso Di farvi vedere Cosa significa Add Draw Odds Ebbene Sono questi ragazzi Andremo a vedere I rate Con i quali Si trovano Le medaglie Del banner Specifico Qui vediamo Nel caso di Kingdom Hearts 2 Naminé Che le Rarità 6 Hanno il 10% Di probabilità Di essere trovate Le 5 90% Mentre 4 e 3 In questo caso Sono 0 Poi qui Andiamo a vedere Nello specifico Tutte le medaglie Che possiamo trovare In questo banner Ovviamente In realtà 6 Ragazzi Sono veramente Tante E anche Ne sono Un casino Ragazzi Veramente Quindi Se avete Voglia e tempo Potete leggere Tutte le probabilità Di trovare Chi Penso che Hanno tutti La stessa probabilità Tranne ovviamente Kino Mars 2 Naminé Anche la versione Boosted Ha un po' Un po' Di meno Di probabilità Di essere trovata E quindi Ragazzi Significa sostanzialmente Che adesso Potremo Vedere Le probabilità Di uscita Delle medaglie Ovviamente Non è Non è tutto Scientifico Quindi Se avete fortuna Magari la trovate Con più probabilità Altrimenti no Questo gioco Tutte queste novità Noi ci vediamo A un prossimo video E ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti